Buongiorno, sono Sara Casal, pittrice e scultrice della Val di Zoldo. Partecipo molto volentieri al progetto Restart Dolomiti con questa mia opera che si chiama Radici. L'opera appunto vuole rappresentare tutte le emozioni provate nei giorni dell'alluvione il 29 di ottobre e tutti i giorni successivi. Le radici uscite dal terreno ma allo stesso tempo le stesse radici che hanno unito le persone nella ricostruzione del proprio territorio. Ringrazio ancora per poter partecipare a questa iniziativa che unisce l'energia di tutti questi artisti per un fine comune e vi aspettiamo tutti numerosi all'asta che si terrà il 26 gennaio a Villa Pat di Sedico. Grazie per la visione!